Musica E' partita venerdì 30 giugno, bagnata dalla pioggia, la 21esima edizione di Proloco in Festa, il tradizionale appuntamento che ha portato sul lungomare di Porto San Giorgio per tre giorni i saperi e i sapori della tradizione che segna l'avvio delle manifestazioni estive nel Permano. Per me Proloco in Festa è l'inizio dell'estate san giorgese, è una bellissima Ghermess, una Ghermess storica che poi è cresciuta nel corso degli anni e è divenuto evento nazionale. Questo significa che questa manifestazione ha avuto il giusto, la giusta ricompensa, soprattutto per gli sforzi che vengono fatti dalle UMPLI, l'UMPLI provinciale, da tutte le proloche che vengono a Porto San Giorgio. Una manifestazione nazionale per l'UMPLI che ha visto impegnati oltre 500 volontari che per tre giorni fino a domenica 2 luglio hanno fatto gustare al pubblico di visitatori e turisti i sapori tradizionali del territorio. Perché Proloco in Festa è una manifestazione nazionale? Beh, dai numeri, dal coinvolgimento, dalla qualità delle nostre proloco, da quello che realizzano in questi due giorni, dalla grande forza che viene data al valore del territorio. E allora tutto questo fa parte della nostra storia, delle nostre tradizioni e allora abbiamo voluto dare questo riconoscimento ad un territorio e a una manifestazione che rappresenta sempre di più un'eccellenza a livello nazionale. Per la regione Marche Proloco in Festa rappresenta una grande vetrina in un settore, quello enogastronomico, davvero trainante. Sicuramente è qualcosa che a noi come amministrazione regionale fa piacere e interessa, tanto da sostenerla anche economicamente, perché riteniamo tra le altre cose assolva a quello che è una delle prorative, uno degli impegni che ci siamo dati, quella di fare promozione, mettere un po' in evidenza, far conoscere le nostre eccellenze enogastronomiche e ricordo che c'è un dato che testimonia che il 20% dei turisti che vengono nella nostra regione vengono per motivi enogastronomici. Questo conferma che abbiamo delle eccellenze e dobbiamo essere bravi a valorizzarle e farle conoscere. Precedere il taglio del nastro e l'apertura degli stand venerdì con un chilometro e mezzo di esperienze da gustare per 29 proloco presenti, si è tenuto il tradizionale convegno quest'anno presso il Palazzo del Turismo in via Oberdan dal titolo L'evoluzione delle proloco tra tradizione social, in cui si è posto l'accento su nuovi media di diffusione attraverso uno storytelling che possa arrivare anche ai giovanissimi sui social. Come si arriva anche ai giovanissimi attraverso i nuovi canali? Sicuramente l'utilizzo dei social è il mezzo migliore per arrivare a tutti. Io ho trovato la mia opportunità sui social, quindi sono qui per aiutare un po' questo evento che conosco da tanti anni, a essere sempre più giovanile, un po' più dinamico attraverso l'utilizzo dei social, quindi quest'anno farò parte di questo team per creare contenuti molto molto avvincenti. Ospite d'onore di questa edizione è lo chef Max Mariola che nel suo show cooking ha creato ricette solo con ingredienti locali. Quanto saperi e sapori possono raccontare di un territorio? Secondo noi tantissimo, noi partiamo sempre dalla tradizione. Noi parliamo con le prologo, ci confrontiamo con loro e la base di partenza è sempre la tradizione, partire sempre da quello, mai dimenticarla perché ci racconta tutto il territorio e tutta l'evoluzione che c'è dietro a un territorio. Proprio oggi abbiamo fatto un convegno dove si parlava praticamente dell'evoluzione delle prologo tra tradizioni e social. I social ovviamente ci aiutano a promuovere i prodotti, non devono cambiare, i prodotti sono quelli che sono. Quindi è importante puntare su di quelli, far riconoscere perché ne abbiamo tantissimi e tutti di una bontà assoluta. Quindi ogni prologo viene proprio a prologo in festa e porta i prodotti. Noi puntiamo molto sul loro prodotto, non è una festa che serve a fare business. Che poi le prologo hanno il loro tornaconto, va benissimo perché poi questo tornaconto lo rispendono nei loro territori, quindi portano turisti e la cosa diventa molto importante. Però partire sempre dalla tradizione e dal prodotto che ha il proprio paese e la propria città. Grande entusiasmo da parte della Prologo di Porto San Giorgio che con il nuovo direttivo si è affidata per questo evento al supporto di Umpli ed ad un format storico ormai di sicuro successo. Quanti sono i membri della Prologo a Porto San Giorgio? Quanta gente gravita intorno sia a questo ma a tutti gli altri eventi di cui la Prologo si occupa? Siamo più o meno un centinaio di membri, soci attivi e qualcuno meno attivo come in tutte le Prologo. Quest'anno siamo un nuovo direttivo, siamo entrati da poco, tutti più o meno giovani. Il vecchio direttivo, le vecchie soci si sono uniti a noi, stanno arrivando anche tantissimi ragazzi ancora più giovani e questo ci fa piacere perché abbiamo spalancato proprio le porte di questo Prologo ai giovani perché il futuro è lì. Tante soddisfazione è stata espressa fin dall'inaugurazione dal presidente Umpli Marche Marco Silla che ha sottolineato come la forza delle Prologo sia nel volontariato di tanti appassionati che amano i propri territori e desiderano mostrarli attraverso i sapori della tradizione enogastronomica. Prologo in festa, come ha detto lei ancora una volta, promuove la tradizione. Noi vogliamo fare proprio questo, non dobbiamo scordarci il passato, la tradizione c'è ed è il soggetto per dare voce a tutti i nostri social quindi tutti quelli che ci danno la possibilità di farci conoscere. Non dobbiamo mai dimenticarlo perché se ci scordiamo il passato poi non possiamo andare avanti nel futuro. Questo è il nostro territorio, la nostra forza, il nostro know-how per quanto riguarda i nostri volontari. Come mi diceva una volta un sindaco, una fetta di salame presentata da un volontario non è come quella presentata da un'azienda perché lì c'è amore per il territorio, non c'è un'operazione di lucro, quindi lo facciamo per passione. Quindi questa è veramente la nostra forza. I nostri 500 volontari che stanno qui, su questo chilometro e mezzo di lungomare, possano sì che si passi una giornata di festa, perché questo deve essere. Lavorare insieme tra tradizioni, fare amicizie, condividere la fatica, condividere le gioie, le passioni. Questo deve essere quello che porta poi a lavorare insieme e quindi creare quella rete che noi stiamo cercando insieme all'Umbria Nazionale e all'Umbria Provinciale di mettere insieme questi volontari. Grazie. 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 Grazie.